I familiari di Guerrina Piscaglia chiedono un risarcimento di quasi un milione di euro a padre Gratien Alabi, alla diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro e ai canonici regolari premostratensi. Alabi, attualmente detenuto nel carcere di Revibbia nel 2019, è stato condannato in via definitiva a 25 anni per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della donna. Adesso le sorelle e le nipoti di Guerrina, scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014, hanno depositato un atto di citazione al Tribunale Civile di Arezzo, dove il 24 novembre è fissata un'udienza della causa. L'abito talare, scrivono gli avvocati dei familiari, fu una vera e propria condizio sine qua non della relazione sessuale prima e dell'evento morte poi, poiché pose padre Graziano nella condizione di poter più agevolmente compiere il fatto dannoso. Inoltre, sostengono gli avvocati, il vescovo aveva la facoltà di destituire l'abi oppure assegnarlo ad un'altra parrocchia dal momento che era stato informato della relazione da una lettera di una parrocchiana. La causa dell'omicidio, dunque secondo i familiari, è evidente. Alabi la uccise in seguito della degenerazione del rapporto che aveva con Guerrina, un rapporto insorto in ragione della funzione pastorale affidatagli. La Corte di Firenze, inoltre, individuano il timore di perdere il proprio incarico a causa di uno scandalo il movente dell'assassinio. Fu proprio, celandosi dietro il carisma dell'uomo di chiesa e abusando delle sue incombenze, scrivono i legali che Graziano manipolò Guerrina sino a perdere il controllo. E fu proprio a ragione delle stesse funzioni che Graziano trovò più conveniente strangorarla piuttosto che andare incontro alle conseguenze disciplinari della sua condotta. Da qui la richiesta di risarcimento danni tra interessi e spese che si avvicina al milione di euro. Il corpo della donna, invece, non è mai stato ritrovato.